Ciao tifosi del Milan, sono il vostro giornalista sportivo specializzato nelle notizie sulla squadra, e ho un'informazione esclusiva per voi. È passata appena una settimana dall'addio di Maurizio Sarri alla Lazio. Secondo il calciomercato.com, non possiamo escludere una nuova avventura nei prossimi mesi per l'allenatore, che è anche legato al Milan in caso di addio di Pioli. Sì, avete capito bene! Sarri, che di recente si è congedato dalla Lazio, potrebbe essere il prossimo comandante del nostro amato Milan. L'allenatore ha un track record di successo nel calcio italiano e il suo approccio tattico aggressivo potrebbe dare nuova linfa alla nostra squadra. Ma, aspettate un attimo, tifosi, prima di lasciarci prendere troppo dall'entusiasmo, è importante ricordare che si tratta solo di speculazioni. Non c'è ancora nulla confermato ufficialmente dal club. Tuttavia, la possibilità di avere un tecnico rinomato come Sarri alla guida sicuramente genera aspettative e discussioni tra i tifosi. Immaginate, Sarri porta il suo stile di gioco caratteristico al Milan, con il suo enfasi sul gioco veloce e sull'attacco implacabile. Sarebbe un cambiamento emozionante e potrebbe portare il Milan a nuove vette nel panorama calcistico italiano ed europeo. Ora, cari tifosi, voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate della possibilità che Maurizio Sarri prenda il comando del Milan? Credete che sarebbe la scelta giusta per portare la nostra squadra al successo? Lasciate i vostri commenti qui sotto e discuteremo insieme questa possibilità entusiasmante. E non dimenticatevi di rimanere sintonizzati qui sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti e notizie esclusive su Milan. Alla prossima! E forza Milan!